Altro co-casalingo per il Dak di Marco Rossi, sconfitto dal Trencin. La squadra ora è agganciata in terza posizione dall'Ozilina. Domina lo Spartak Trnava. Di seguiro risultati e classifica dopo 13 giornate del campionato slovacco. Dak Trencin il primo febbraio. Zlat e Moravce Slovan Bratislava 3 febbraio. Seneca e Ruzon Berok 03. Spartak Trnava Podbrezova 2. Zemplinitra 00. Tatra Ampris o Zilina 01. Classifica. Spartak Trnava 33. Slovan Bratislava 25. Zilina 24. Dak 24. Ruzon Berok 22. Nitra 22. Trencin 21. Zlat e Moravce 19. Zemplin 11. Podbrezova 10. Tatra Amprisova 8. Seneca 2.